E chissà quale sarà la temperatura dell'acqua a Capodanno, perché ormai nell'immaginario collettivo di tutti noi l'immagine del primo tuffo dell'anno nelle acque gelide di pane e pomodoro, tutto al termine di una marcia longa che è stata pensata per avvicinare le istituzioni cittadini al mare sotto l'egida di San Nicola. Per parlare di tutto questo, diciamo buonasera a Ottavio De Gregorio, che è il presidente dell'associazione Gruppo Impegno Spiaggia Pane e Pomodoro. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Allora, ci domandiamo, dopo due anni ritorna la marcia longa Nicolaiane e anche il tuffo nelle acque gelide, ma queste acque gelide aiutano davvero a riavvicinare la città col mare? Che cosa vi spinge a fare quel tuffo? È importante, perché quando abbiamo iniziato nel 1998 eravamo un gruppetto, ci chiamavano Di Matti, che facevano la maratonina e poi con il tuffo a mare. Successivamente c'è stato un crescendo di partecipazione. Poi abbiamo avuto anche il sesso femminile che ha preso il sopravvento e che partecipa a questa manifestazione, oltre che i cittadini che vengono ad assistere al tuffo a mare. Quest'anno con questa temperatura ci prevediamo il boom. Quindi ci sarà molta gente, una manifestazione anche molto voluta dall'assessorato allo sport, dall'assessore Pietro Petruzzelli. Non solo il tuffo e la marcia longa, perché i momenti che proponete di vivere insieme sono davvero tanti. Sì, questo è il merito, va dato innanzitutto all'Unione Italiana Sport Popolare e al Centro Sportivo Italiano, che continuano l'organizzazione di questa maratonina, di questa manifestazione, perché ci fu un periodo in cui c'erano delle grosse difficoltà a proseguire. L'intervento dell'Unione Italiana Sport Popolare e del Centro Sportivo Italiano, nonché dei veterani dello sport e dell'Associazione Bersalieri, ha consentito, insieme alla nostra associazione, ha consentito di proseguire e prevediamo una grossa partecipazione a questa manifestazione. Immagini storiche le vediamo e poi le cercheranno in tutto il mondo. Ci si scrive gratuitamente, non ci basta mandare una mail a bari.wisp.it. Grazie Ottavo De Gregorio per essere stati con noi. Aspettiamo le immagini di questo tuffo anche quest'anno. Grazie. Grazie, arrivederci.